L'arego, poi su ancora, Valparola, e poi giù al Campolongo e torniamo di qua. Allora, come alimentazione? Ne abbiamo visto, era difficile mangiare solido in salita. Adesso qui sullo scolinare ci siamo presi una pausetta, so che voi in gara non lo fate, quindi potrete mangiare della frutta secca al volo o qualcosa di solido, smezzandovi una barretta qui prima di andare giù a capofitto nella discesa. Noi l'abbiamo fatto con calma e mezzo strudel l'abbiamo mangiato. Però se non avete il tempo di mangiare mezzo strudel perché dovete battere il vostro amico... Se dispiace per voi, ovviamente. Peggio per voi. Sacchettino di frutta secca e barretta e via. È uno dei pochi momenti in cui possiamo ingerire qualcosa di solido perché poi si va ancora a discesa. Subito difficile, poi superi il falzarego e basta. Un'altra cosa importante, che c'erano 34 gradi oggi, mantellina sempre in tasca, soprattutto in questi posti, perché spesso si ha l'abitudine, quando è estate, che è caldo, di non prendere la presenza. Tanto ci sono 40 gradi, invece il ciclista vero questa ce l'ha in tasca anche in Africa. Ok? Giù in discesa, a dopo. Ciao. Inizia salita, passo al falzarego. Abbiamo fatto la salita, la discesa, scusate, del jau. Molto tecnica, molto impegnativa, non di gamma, ma comunque dal profilo energetico, perché tante curve strette. Inizia al falzarego. Sarà una salita più dolce. Però, attenzione, qui all'inizio, la famosa sensazione, come si dice in gergo, dei cani che morsicano i quadricipiti. È normale dopo la discesa. Sembra di avere le gambe un po' impastate. Non facciamoci prendere dal panico, Gabriele. Agili. 3-4 minuti cardiovascolarizzare per togliere questo torpore dell'inizio a salita dopo la discesa. E ancora 3-4 minuti senza panico e ci riportiamo di passo. Com'è, Gabriele? Senti i cagnolini sulle gambe? Se le senti è normale, eh. Come sono le sensazioni? Positivissime. Pendenze un po' più dolci rispetto a prima, no? Sì, assolutamente. Estremamente più medarabile. Sensazione, frequenza, cardiaca, watt, come stai? Watt sono su 2 in questo momento, per me tranquillo. Watt è una frequenza a 150. Ok, quindi al medio. Vedo che anche la cadenza è più facile. Siamo 70 pedalate al minuto, 7% la pendenza in questo momento. E un po' alla volta andiamo in progressione fino a salire, eh. Bravo. Tratto che spiana 8 km alla cima. Questi tratti qua te spianano così, approfittane per bere, eh. Ricordati sempre 750 ml almeno all'ora. Oggi ci sono 32-33 gradi già qui. Sarebbe meglio anche anche di più, ma quando ci sono sempre questi tratti qua che spianano così, approfittane, eh. respira un po' di più e bevi sempre a piccoli sorsi, eh. Ogni 5 minuti tac, piccolo sorsetto di acqua. Bravo, Gabriele. Trittoni lunghi dove bisogna tenere la concentrazione qua. Sotto il sole, 33 gradi. determinato, concentrato, tieni la cadenza, bravo. 5 km alla cima. Ottimo. Tieni bene il ritmo. È che è finito il tratto duro, quello brutto sotto il sole, ogni tanto ricordati di alzarti che scarichi i glutei, eh. Ti vado al momento giusto per prendere altri 30 grammi di carbo a basso la smolarità. Sforzati, è importantissimo, eh. Poi ci bevi dietro un po' di acqua. Bravo. Grandissimo! Com'è andata, eh? Ah, grande. Come sono le sensazioni dopo già offensare con le gambe, come sentivi? Come sentivi? Come all'interno di ammendire, possiamo dire, mi trova la schiena, mi è avuto le dalle, mi è gestita bene. Riuscivi ad aderciare di tanto? Sì, sì, è assolutamente molto prefattibile. All'interno di tornati, come mi consegnai, e dai sotto, bene. E di sopra delle aspettative. Grande! Siamo sul falzargo, se ci manca da fare il campo longa o da fare la parola, la parola poi proteste il campo, una mezza parletta perché sennò, dato che siamo calmi, dare sempre le liquidi non vorrei che succedesse un episodio sgradevole esatto, evitiamo tutta questione di osmolarità questo frullone cosa sarà? lo spiegheremo nelle prossime puntate tanto mangiamo qualcosa di solido ed eccolo grande Gabriele innesca il turbo e il miglioramento aspettata va il parola dopo la frutta secca e pronte via pam pam alla grande giù in picchiata verso Corvara adesso che questa è una caratteristica da stamattina stai migliorando che vuol dire che sei un turbodiesel come si dice in gergo non scientifico sono un vecchio diesel dai che andiamo giù a Corvara l'ultima salita di giornata abbiamo percorso partendo da Alleghe questa, tutte le salite finali ci troviamo a far per l'ultima quella che ha le Dolomiti è la prima notizia del giorno Gabriele si è alimentato bene si è gestito bene e sull'ultima salita in netta crescita eccoci qua Eroe come è andata? benissimo molto bene contento gestito bene adesso sto bene quindi sono strafelice andavi increscendo esatto fantastico dopo che abbiamo la finestra anabolica adesso è 30 minuti per mangiare zuccheri ad alto indice glicemico ok quindi adesso il primo bar che troviamo ci fermiamo grande Gabriele grande bene le conclusioni dopo una giornata come questa 2571 metri di dislivello 109 chilometri in 6 ore e 02 di movimento 16 chilometri orari di media e cosa dire è fattibile fare la maratona delle Dolomiti con poco più di 4000 chilometri con di cui la metà fatta in indoor bene secondo me si è fattibile se si va molto molto piano e ci si sta e ci si sa gestire contestualmente alle proprie possibilità e al proprio allenamento Gabriele andando a casa mi ha fatto una domanda mi ha detto Angelo tu cosa mi consigli di fare? allora io gli ho detto guarda Gabriele contestualmente a quello che abbiamo visto oggi ce la puoi fare in nove e mezza dieci ore cosa farei io? io ti consiglio di fare il medio non tanto perché non ce la fai a fare il lungo ma per la mia opinione siccome è la prima volta che ti fai la gran fondo delle Dolomiti io me la prenderei a piccoli step poi fattibile? sì per me è fattibile che sia salutare non so quanto ma comunque questo è solo una mia opinione per cui viva gli eroi del ciclismo viva gli eroi come Gabriele che quando hanno un sogno li brillano gli occhi come i bambini viva il ciclismo ciao! grazie grazie grazie